Io ho chiesto al Presidente la situazione in Libano, essendo libanese di nascita, è il mio paese, ancora. E gli ho chiesto come stanno le cose in Libano e lui è molto intelligente, il Presidente del Consiglio nostro, ha recepito benissimo la situazione grave che c'è in Libano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.